ecco la bella sciata di stefano saluta stefano per provare frenati allora tu lo sai come per girare a sinistra devi puntare a sinistra per girare a destra devi puntare a destra capito guarda che qui c'è il precipizio si è perso di nuovo a sinistra punto a sinistra che sono giro a destra scendiamo no io devo provare voglio un po' usare no no è pericoloso è pericoloso perchè non c'è una faccionata a casa mia dai lo facciamo su un programma che c'è la pista proprio dal bov da scendere col bov c'è la pista da scendere col bov aspetta lega vado in diagonale così vado in Grazie a tutti. 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 Ehi, a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti.